Ti entrai cantante, facci video su TikTok da tre anni per... Ciao, sono Noela. Io non condivido quello che dice Giulia di più. L'industria musicale per me la cacca delle mucche altoatesine. Ho firmato molti contratti discografici e non ne è mai stato rispettato uno. Top! Dal giorno che sono uscito da X Factor io ho sempre voluto pubblicare un album. Era il mio sogno, era la mia necessità. Avevo un contratto importante, con un'etichetta importante. Questo album doveva uscire a dicembre 2020. Voi lo vedete questo album? Perché tutto il team al tempo me lo confermava. Le canzoni erano pronte, erano, esistevano, mancava solo tipo la copertina, ma non c'era nessuno a supportarmi. Ero minorenne e più che altro dovete pensare al fatto che queste persone guadagnano più o meno l'85% di quello che guadagna un artista. Le persone con cui lavoravo iniziano totalmente a scomparire. Io rimango con le canzoni in mano, ma non le potevo neanche pubblicare. Perché? Perché ero legato a un contratto. Ero legato a un contratto che mi impediva di pubblicare canzoni da solo. Quindi ero lì con la mia pennetta, tipo un cero. Ho scritto ormai più di 70 canzoni e me le tengo tutte qui nel cassetto. Perché? Perché è un mondo opportunista. Guadagna tutto quello che riesce su di te e poi... Non dovete mai mollare i vostri sogni, manco se degli stronzi ve lo impediscono. Non dovete mai mollare i vostri sogni, manco se degli stronzi ve lo impediscono. Grazie. Grazie. Grazie.